bella a tutti ragazzi sono verditti oggi siamo qui nel primissimo video di call of duty infinity war for la beta con the kingale 99 ciao a tutti ragazzi the kingale 99 ridillo ciao a tutti ridillo the kingale 99 ciao a tutti ancora ancora the kingale 99 mamma mia tre volte the kingale 99 ci sono qui uno qui e uno qui comunque vai cerca una partita faremo una o due partite vediamo un po sperando che il mio joystick riesca a trattenere tutto ciò perché scarichissimo se volete altri video di call of duty in generale non per forza infinity war for lasciate almeno 50 mi piace no 55 perché ci sono io 55 perché c'è lui perché se non aggiungiamo 55 mi piace lasciavate 30 invece giusto se invece aggiungiamo i 70 mi piace cosa sai che è impossibile vi porto con tutti con doppia pesca o però sicuramente impossibile perché poi siete delle merda non lasciate mai like che scrivo ma dove cazzo siamo ma che si è bugiato no vabbè siamo in scuola insieme ok perfetto bloccato il ripper sai tipo quello di ghost op la stessa cosa o signori 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 sono già morto allora raga cosa penso di questo call of duty è un call of duty che a me modestamente non piace non piace perché troppo fantascientifico e a me i giochi così turistico fantascientifico non so neanche io ma quelli sono pubstone però il primo 4 qui la bella stava facendo la madonna 4 15 oh che lato proprio da dietro ovviamente allora non vi aspettate che non vi aspettate partite mega galattiche perché no c'è soprattutto io non ce la faccio a fare partite mega galattiche sono un dito in culo per quanto so forti che sinceramente non è bello provare un dito in culo però quando ti capisci in lobby ti tocca ovviamente non so le femmine come fanno a prenderselo sempre del buco del culo non il dito è una cosa molto più grande e grosso più grande del dito vabbè poi dipende se siete non tanto dotati si può definire anche un dito quindi bravo quello sempre intanto questo fare un po' le stragi e quanti sono ecco ai mori merda uccidere sta merda ue finita abbiamo perso va bene facciamo un'altra perché non è bravo un cazzo ho fatto 59 capirai 0,56 radio mamma mia comunque facciamo un'altra visita questa qui già iniziata quindi ci vediamo nella prossima partita ok ragazzi eccoci qui in partita la seconda partita mi ha iniziato questo qui sta camminando c'è sta correndo senza muoversi però va bene perfetto già da dietro mi uccidono che palle che cazzo è possibile sta ah no mio amico mio amico mio ti voglio bene ti voglio bene ti faccio il giro da dietro e infatti l'avete già ammazzato che cazzo però quello mi ha insultato in inglese però non me ne frega un cazzo dove scappi nabbo vadoo che forte starmo il vector di ghost oh rimmerda madora come sto smirando comunque raga non so se lo prenderò questo gioco perché appunto detto non mi non mi piace più di tanto si ho detto si è bello però eh io pure c'ho questo gioco non so di prendere vediamo dipende come mi gira le case tengo sfilo prendo e me lo compro sennò non me lo compro e faccio magari mi riesco a prendere io code 4 quello è sicuro ah beh sì cazzo è andato a finire madonna ma perché non li vede cioè io solo partire di merda faccio sto gioco mi sembro un handicappato porca nota ma sì ma pure io eh siamo al stesso livello però comunque oh ma sempre da dietro vengono madonna che camper questo che schifo mori merda pure io a volte vincevo da dietro ma perché mi danno un colpo sta cosa ne guarda ci sono certi anni che ti danno un colpo praticamente sembra che ci sono due di ping quelli che ci giocano a sto gioco è vero che la veda eh quindi ancora un po' di cose che devono sistemare oh cazzo quello da là sopra che ero ucciso alleati va non ci moriva male qua sopra c'è uno raga qua c'è uno buono così tutti e due li ho presi che ho fatto solo un hit marker hit marker hit marker hit marker quella è l'importante ah la fregna di morire male con un po' più calore che ti fanno spawnare proprio mid ti fanno spawnare ci va a vedere eh madonna se mi chillava così ma perché dai ma che gioco di c'è io ma perché mi spawnano dietro mamma mia no ma dai dove andate il nabu eh namico mio guarda così ho ucciso e niente abbiamo cioè in realtà abbiamo vinto però è come se ho perso perché ho fatto una partita di merda amica allora io ho fatto 12-17 con 0-71 di rateo bellissimo ci sta troppo bello troppo bello ci sta ci sta comunque niente io vi ringrazio di aver visto il video fino a qui quindi ditemi la vostra su questo gioco se vi piace o non vi piace scrivetelo qui sotto nei commenti se il video vi è piaciuto lasciate un bel like un commento iscrivetevi al canale se ancora l'avete fatto in descrizione al canale mio e mi raccomando passateci nel canale suo passateci e niente e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti